Il CAM è nato praticamente un anno fa, è stato concepito dalle due direzioni generali e da un'equipe composta da antropologi, narratologi e architetti. È stato un modo per rivalorizzare l'ampio patrimonio che avevamo nei nostri depositi e di un milione di fotografie, 1200 cartine geografiche, 900 diari e 1200 film. Si voleva creare uno spazio, però diverso dai soliti musei, un polo culturale dove la missione potesse parlare alle diverse culture che abitano la realtà di Torino. Questa è una parte del percorso narrativo del CAM, abbiamo le maschere che è quello che una persona deve togliere quando vuole andare incontro all'altro. Le maschere che abbiamo qua sono africane e amazzoniche, hanno un significato molto diverso da quelle nostre, europee, le nostre servono per nascondere, queste invece entravano a far parte di riti, di danze, in cui si chiedeva alla terra di essere più feconda e in cui si chiedevano agli spiriti di dare i superpoteri a coloro che la indossavano. Alcune maschere, tra cui questo feticcio che abbiamo là, avevano una funzione eotropaica, cioè servivano per allontanare gli spiriti, gli spiriti del male dal villaggio o dalle case. Ecco via altre maschere, come il feticcio Mangiabambini, che ricorda che dopo il rito di iniziazione smettiamo di essere adulti e il bambino va a finire nella pancia del Mangiabambini. Questa parte ci ricorda una delle prime difficoltà che abbiamo quando andiamo a visitare un altro popolo e non capire la lingua. E ci ricorda invece l'amore dei missionari e delle missionarie per le lingue dei popoli, un amore che si è concretizzato nella realizzazione di dizionari e grammatiche delle lingue locali che sono state imparate così bene. Questo per esempio è un libro fatto da un nostro padre negli anni 50, una grammatica dizionario della lingua somala. Era padrecchio mio, ci aveva anche il dono della cartografia, a lui dobbiamo questa cartina geografica e anche altre che sono qua intorno, fatte a mano, avendo il passo di un metro si è girato un po' di nazioni nelle quali è stato. Organetto centenario ecologico ad aria, una delle cose che i missionari si portavano appresso insieme alle macchine fotografiche per testimoniare fin dal 1902 quello che succedeva nelle missioni. Un altro modo che avevano era quella di scrivere dei diari attraverso i quali il fondatore capiva quello che si realizzava in loco e dalle macchine fotografiche, dalle fotografie si è passati piano piano alle cineprese e ai film. La missione è il dialogo, il dialogo con le altre religioni, quello che facciamo in varie parti del mondo, in modo particolare in Corea e in Mongolia, ma anche qua in Italia è una zona di dialogo, il dialogo con le altre religioni, con i musulmani, con gli isti, con gli ebrei e qui abbiamo pensato in una zona di dialogo interreligioso in uno spazio aperto a tutti in cui insieme andiamo alla ricerca delle radici dei profondi, di quello di Siamma. E dietro la tenda, come nel Tempio Ebraico, la Santa Santorum, l'altare dove possiamo celebrare la Messa con i gruppi cristiani e rendere grazie al Signore del dono che ci ha fatto. I laboratori per i bambini e gli adolescenti raccontiamo favore dal mondo, facciamo poliritmi, laboratori sulle lingue, laboratori sulle maschere e sulle paure. Siamo nel Salone che ha ospitato e formato centinaia di missionari lungo la storia, una storia che è cambiata e che oggi ci fa pensare ancora una volta in questo grosso laboratorio che è il CAM, come dovremmo intendere la missione. l'abbiamo impostata, lo vogliamo impostare come un dialogo con la cultura e con le culture, perché la grazia di Dio passa proprio attraverso la cultura umana. Quindi qua stiamo immaginando nuovi mondi e nuove dinamiche missionarie tutti insieme.